ciao a tutti ragazzi siamo rabbi e bolly e benvenuti nello spacchettamento di carte dei pokemon del mcdonald guardate ragazzi sembrano gli happy meal cioè sono gli happy meal delle carte dei pokemon guardate hanno anche la faccina delle happy meal non vedo l'ora di aprirle ma sono tantissime ok rabbi in ogni bustina dei pokemon del mcdonald ci sarà un pacchettino che noi dobbiamo aprire sei contenta? si contentissima allora ragazzi mi raccomando voi lasciate subito un bel like e iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti perché noi oggi spacchetteremo tutti questi pacchettini e non vediamo l'ora perché a me molly piace un sacco spacchettare i pacchettini allora ragazzi scrivete qua sotto cosa preferite il mcdonald oppure i pokemon questo è difficile oh a questa domanda non so cosa risponderei forse il mcdonald allora comincio io dai posso cominciare? posso cominciare sì io scelgo questa qui piccolina pikachu wow pikachu vai allora dentro ci sarà quindi una bustina oppure delle carte male? dentro c'è una bustina delle carte del mcdonald guarda oh mio dio guarda che bella ci sono pikachu squirtle bulbasaur e charmander hai visto tutti che carini wow ma non c'è charizard quello? no questo qui diventa charizard ma è ancora piccolino eh che cosa strana e qui dentro ci sono un sacco di cosine che ovviamente terrò io anche il labirinto no io voglio giocare al labirinto subito no 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 adesso è il mio turno e devo aprirle no io voglio fare il labirinto no mi dispiace oh cosa hai trovato? allora qui dentro Rebby sono tutte brillanti le carte come sono tutte brillanti? sì perché ce ne sono solo quattro cosa? sto scherzando va bene sono tutte vmax, holo o reverse? no 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 non sono così però vedo che sta imparando eh le imparate tutte grazie amici che mi scrivete nei commentini ogni volta le soluzioni ok vado eh oh bella vediamo facci vedere bella questa c'è pikachu come c'è pikachu? c'è pikachu bello un altro pikachu? che popio oh mio dio ma sono tre aspetta ma gli hai fatto vedere solo tre? sono quattro c'era solo una brillante è questa quella brillante ragazzi guardate brilla un sacco però è strana in effetti questa carta ed è di molly e adesso tocca alla Rebby a spacchettare allora visto che Molly ha scelto il pacchettino bianco la Rebby sceglierà quello nero ok sono indecisata tra questo o quello voi quale vi consigliate non lo so ok prendiamo questo è stato il primo che ho toccato vediamo un po' oh ma è uguale alla tua è certo sono tutti uguali del mcdonald ok ma no ma non c'è il labirinto non si creda allora io voglio fare il labirinto ma dopo mi fai fare il labirinto hai capito? dopo te lo facciamo fare aspetta c'è qualcosa da montare guarda che cos'è? ma è una scatolina dei bokkans sono le patatine allora qui dentro ci sarà sicuramente il ketchup perché è rossa è rossa e quindi c'è il ketchup poi vediamo questo sarà il sacchettino delle patatine guarda guarda è il sacchettino delle patatine ma è bellissimo guarda io voglio montarli tutti questi aspetta allora sacchettino delle patatine ok io apro la postina no 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 l'apro io l'apro io l'apro io eh che fretta che hai non mi mettere ansia allora apriamo la prima è subito la più rara non credo che cos'è? che cos'è? ma è brillantinosissima è un gattino piccolino è un gattino poi c'è questo che cos'è? sembra una lucertola c'è quello di prima e poi c'è chimchar ma è una scimmietta ok comunque il primo è sempre quello più raro ok è un'idea allora le dobbiamo aprire al contrario così il primo sarà l'ultimo capito eh? si come no allora qui la carta più rara da trovare in assoluto è pikachu rebi eh ma scusa l'hai già trovato prima pikachu? no pikachu brillante ah ok ma ci sarà in tutti questi no? voi cosa dite ragazzi secondo voi troveremo pikachu oppure no? sentiamo quale pesa di più? eh non lo so questa sei sicuro? si qui dentro ci sarà lui ma come fai a saperlo? ma magari pesa di più ma non c'è pikachu ok eccoci qua ma perché tu sei per il labirinto io non ce l'ho mai io sono il labirinto ok rebi facci vedere facci vedere hai trovato pikachu non è pikachu hai trovato pikachu però sono tutte diverse per ora eh wow chi è? ci assomiglia a pikachu però chi è questo qui? oh molly vuoi sapere una battuta? eh guarda eh questo è quella brillante ed ecco pikachu l'abbiamo trovato quello piccolino lì ma quello è il simbolo eh vabbè sempre un pikachu ecco le carte che abbiamo trovato ok direi che tocca la rebi questo assomiglia alla rebi ma non è vero comunque bellino è un bufetto precioso allora prima ho scelto il mcdonald nero adesso lo sceglierò bianco quindi prendo questo qui vediamo ma pesano tutte uguali come fai a dire che pesano tutti ma stavo scherzando ecco allora apriamo un po' c'è il labirinto? oh labirinto 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 vai vai il labirinto allora vedrai di fare il labirinto allora io ho una soluzione per fare il labirinto partire sempre dalla fine ah quindi parare no no però se si parte dalla fine si trova allora vediamo oh no dai sto partendo dall'inizio no ma è questa canna dai rebi te la fai oppure no guarda la penna scarica ok funziona andiamo vediamo secondo me non ce la fai eh si allora si passa di qua brava poi si passa di qua ma all'intanto prende questa passiamo di qua non attacchere il mio pacchettino oh ce la fai guarda 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 guardate ragazzi come è concentrata aspettate mi stai concentrando da qui da qui ecco fatto ma quanto è difficile così oh si un applauso per la rebi che ha completato il labirinto brava ti sei meritata la bustina grazie allora questa volta però non voglio spoilerarmi subito la carta brillante quindi le apro il contrario ok vediamo così così ce l'ho fatta vai rebi vediamo la prima oh oh è doppia non lo so oh questa è doppia vai poi oh attenzione ti prego pikachu potrebbe esserci pikachu vediamo oh e invece no e invece chi è e invece no e chi è questo qui chi è cid tranquillo ciao piccolino non è pikachu ok però io direi che posso aprirne un'altra vero mole no è il mio turno ok vai tocca a te allora non l'ho aperto ancora nero ecco qua oh vediamo voglio questo però in quello nero mi sa che non c'è labirinto l'ho aperto male oh no mole hai rotto l'happy meal adesso non è più happy no guarda che bello hai capito? non faceva ridere vediamo un po' si dai faceva ridere qui c'è da colorare ragazzi non c'è però a noi non ci interessa ma no non stiamo a testa per terra no perché a noi interessa cosa? la carta si super brillante di pikachu di pikachu e non c'è pikachu sei pronta? lo metto qua facci vedere facci vedere siete pronti? facci vedere ecco charmand ehi vogliamo vedere da più vicino vediamo oh oh che carino no bellino ma è troppo carino ma che cos'è? un mini panda? è un pandino oh che carino dai ma non abbiamo trovato più i pikachu ancora vabbè lo troveremo guarda ce ne abbiamo ancora uno due tre quattro cinque bianche e uno due tre quattro cinque sei nere posso aprire un altro? no allora allora io direi di aprirne un'altra nera perché prima ho aperto quella bianca e così ne avremo uno due tre dai abbiamo capito aprila io sono una ragazza precisa guarda ho fatto una piramide si ok allora apriamo il mio happy meal sei lenta ad aprire i pacchettini però ad aprire gli happy meal mi sta venendo fame cioè adesso vorrei un hamburger delle patatine invece qui dentro ci sono la scatola non ci sono le patatine dai che troviamo pikachu almeno apriamo subito 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 no no subito oh ma questo ce l'abbiamo già questo ce l'abbiamo vediamo questo questo non ce l'abbiamo oh pikachu però non è brillante eh e non è brillante no è doppio questo esatto però guarda ho trovato pikachu ok fa vedere gli altri pikachu poi e poi abbiamo bello squirtle che carino e poi questo che ce l'abbiamo doppio guardate ragazzi negli happy meal dei pokemon c'è scritto buon appetito e c'è anche scritto rosicchiamento esatto perché le patatine si devono rosicchiare quindi questo sarà il nuovo brava oh no devo chiudere la scatolina ah ma quella non è una patatina ma c'è scritto buon appetito rosicchiamento eh allora siccome sono stato bravo apro due box no sì dai ne apro due ne apro due come no bravo ok vediamo un po' una bustina dai fammene aprire anche un'altra anche un'altra un'altra mia ok ma poi due bianche ma io avevo aperto quella nera per pareggiare i colpi vediamo pikachu ti prego subito vediamo un po' non è pikachu ma dai ma perché te lo spoileri sempre devi aprirle al contrario è charmander ma non si fa così charmander vediamo charmander che poi diventerà charizard no prima charmander guardate questa fatelo ridere è mio oh bellino ma sono le mie carte no che carino sono carini eh ok ok adesso non guardarla però non la guardo la guardiamo tutti insieme non la guardo la guardiamo tutti insieme no guardare non la guardo non la guardo la metto qua sei pronta prontissima vediamo facci vedere oh non ce l'avevamo carino però lui sei pronta siamo pronti siamo pronti oh pikachu ce l'abbiamo pikachu pregla no ho vinto amica 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 ragazzi molly è impazzito ho trovato da te no non te la do non te la do pica 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 allora ragazzi mi vorrei fare notare che molly non si fidava di darmi in mano pikachu e gli ha messo la bustina per farmelo toccare è mio ma no ma sei mai gelosissimo del suo pikachu è mio pikachu ok hai aperto due bustine no quindi adesso tocca a me e ne devo aprire due allora magari noi troviamo un altro di pikachu quindi apriamo un altro pacchettino uh c'è un altro labirinto vediamo ma mi sa che uguale a quello di prima è uguale niente allora non lo facciamo vediamo un po' dai aprine due sono gli ultimi due ok ok ultimi due ma non c'è pikachu no ma l'hai già aperto pikachu si però quello non ce l'avevamo così eh allora non c'è pikachu no aprine un altro si apriamone un altro allora vediamo in questo happy meal è l'ultimo eh l'ultimo e vediamo qua questo gioco non l'ho capito ma mi sa che colorare dobbiamo solo colorare si vai raby apri dal contrario ok aspetta apriamo senza guardare apriamo senza guardare vediamo vediamo un po' vediamo prima carta ce l'abbiamo già ma questa è uscita tipo quelle 20 volte oggi poi questa bello che ce l'abbiamo questa che non ce l'abbiamo e poi e poi tadaloo e invece no questo però non ce l'abbiamo neanche lui ma non è pikachu volevo vincere pikachu pikachu se ho vinto la sfida allora bisogna dire che molly ha vinto questa volta è stato il numero uno perché ha trovato pikachu allora ragazzi fateci sapere se volete altre sfide di pacchettini pokemon perché da noi è tutto e ci vediamo presto in un nuovo fantastico video ciao 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 ciao